Ormai è giunta alla sua terza edizione la Expo Senior e Junior che si terrà da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre alla città dei Ragazzi di Cosenza. Si tratta di un evento di natura sociale ma anche scientifica e turistica. Al centro dei lavori non solo la terza età ma tutta la famiglia, con incontri culturali, seminari formativi, convegni medici, degustazioni gastronomiche e concerti. Un parco di benessere, salute e invecchiamento attivo. È dedicato a tutta la famiglia, quindi partiamo dai ragazzi, andiamo agli adulti e andiamo a finire ai nonni. Io li amo definire così. La famiglia noi la trattiamo a 360 gradi, partendo dall'aspetto medico-scientifico che è l'evento centrale. Abbiamo invitato i professionisti medici del nostra terra, sia che operano in Calabria, sia che vengono da fuori regione, a parlare di problematiche importanti, sia di cronicità per i senior, ma anche di nuove malattie che stanno insorgendo nei giovani. Un esempio pratico può essere che l'abuso di alcol e droga incide molto sulle problematiche prostatiche, quindi anche i giovani devono fare prevenzione. Venerdì 30 settembre, in apertura dell'evento, si terrà il Guelfar dei Comuni, iniziativa nella quale i sindaci che interverranno si scambieranno tra loro una serie di cartoline e una pubblicazione con le strutture ricettive e la descrizione di un pacchetto turistico da proporre ai diversamente giovani. La manifestazione è patrocinata anche dal Comune di Cosenza. L'importante iniziativa è che l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Volare Santo Stefano, porta avanti in una città inclusiva, in una città che manifesta l'attenzione non solo ai giovani, ma anche ai diversamente giovani. Si parla di terza età, ma è un progetto, un'idea, un'iniziativa che in altri giorni coinvolgerà non solo la terza età, ma soprattutto le famiglie, i giovani, i bambini, una tre giorni fatta di tante iniziative, convegni, incontri, confronti e poi musica, partecipazione, la sfilata, i laboratori, davvero tante tante attività che sapranno coinvolgere la città tutta nel prossimo weekend.